salve non guardate i miei capelli ma sono tutti scombinati poi mi devo andare ancora a lavare sono lì 10 e 43 mi sono svegliato tipo 10 o qualcosa ho fatto colazione con dei pezzi di danubio che erano rimasti erano rimasti tipo 2 o 3 da 2 o 3 ruoti 2 ruoti e mezzo e vado adesso non so cosa fare comunque mi sono svegliato tardi perché ieri sono tornato tardi a casa erano tipo le 2 e penso che adesso forse edito qualche video comunque sono contento domani le scuole sono chiuse ma dato sicuramente secondo me domani c'è il sole come sempre e quando di lupia andiamo a scuola però vabbè top dovrei caricare il video perché oggi è lunedì poi dovrei fare la copertina quindi mi do pure muovo perché vabbè è un centro stasera comunque c'è sono le 5 e 45 ho fatto la mia merenda con il mio tiramisul light però non era tanto light perché l'ho fatto con la panna era avanzata della panna e l'ho usata oggi sono andato a fare le analisi prima di andare a scuola non so cosa fare perché in realtà compiti proprio non credo li ho credo proprio che mi continuo a riposare comunque ho pubblicato il video ho fatto la copertina vabbè la descrizione i tag eccetera eccetera e mentre stavo pubblicando il video che dovevo fare la copertina mi sono accorto che invece di scrivere colazione ho scritto tipo colazione una cosa del genere io ovviamente avevo cancellato già tutti i video perché una volta editato essendo che poi i minuti si riducono preferisco tenermi soltanto la parte editata perché sennò altrimenti avrei una miriade di video è rimasto così pazienza la prossima volta farò più attenzione quando scrivo qualcosa nei video poi indovinate cosa ho fatto un Kaiser in tutto ciò sono le 8 comunque non fate caso ai miei capelli ma sembro un pazzo mi devo andare a fare una doccia e praticamente sto facendo il dolce come si chiama non mi ricordo la fetta al latte dovrebbe essere quello che io non l'avevo mai fatto così cioè avevo fatto sì un pan di spagna una volta era uscito buono però solo che quei procedimenti sono diversi quindi praticamente avevo montato le uova a parte a neve e non so cosa ho fatto le ho fatte smontare cioè se erano montate perché nel frattempo poi ho fatto le altre cose qui e per recuperarlo ho provato ho trovato internet di mettere una goccia di limone ma non mi sembra essere cambiato niente anzi qualcosina ma mica tanto adesso l'ho messo in forno e speriamo che cresce almeno quello ho fatto un casino dovrei fare anche la pizza per stasera dovrei fare l'impasto ma non ho proprio voglia comunque alla fine ho impastato anche la pizza ora sta lievitando dai alla fine è cresciuta la farcita il mio fratello perché io di solito quando taglio le torte a metà le faccio sempre rompere credo sia finito per farvi vedere com'è venuto forse dopo vediamo se è rimasto un pezzo forse qualcosa è rimasto più tardi poi vado a fare le palline per la pizza lascio lievitare ancora e poi stasera faccio la pizza sono le 5.47 ho fatto l'impasto eh si ho fatto l'impasto ho fatto le palline per la pizza l'ho messa a lievitare ora aspetto non lo so le 7 e tipo per le 6.30 se ho voglia faccio le patatine fritte non c'ho voglia di impuzzolirmi però vabbè le faccio si vive una volta sola sono le 6.40 sembro illuminato dal signore vabbè le palline sono belle levitate adesso penso proprio che farò le patatine fritte comunque ho tagliato le patate qui e anche così e poi questa le prego quando le pizza sono in forno e nel frattempo io vado a stendere le pizza comunque sono le 6 adesso faccio una chiamata con un mio amico compagno di classe che dobbiamo fare una ricerca comunque è martedì sono le 6.20 ho registrato un video smr due volte perché non mi si sentiva una mazza la prima volta e nada sono fatta ora devo decidere il giorno in cui pubblicare i video dovrei studiare ma non c'ho proprio voglia di una commedia e Dante perché la prof fa domani ma studierò domani la prof quando io praticamente sono andato a fare i risami degli dei post ha spiegato il terzo quando è dell'inverno e devo vedere se trovo qualcosa me lo scrivo sul quaderno perché domani fa domande di solo e si è chiesto terzo canto dell'inverno non so un ca-i-zer mi riposo al trillumine perché ora ho fatto il mio orario lavorativo di micro-influencer comunque non lo so cioè dallo specchio mi piacciono i capelli eppure guardandomi con la fotocamera poi mi vado a vedere il video ci sto malissimo comunque nada me li dovevo andare a tagliere oggi ma oggi casalmente era chiuso questo sono lì 8.47 e ho appena finito di fare i compiti e ho fatto queste due pagine e queste altre due ci ho messo un po' perché per fare gli esercizi è stata lunga trovare le risposte poi comunque ho fatto anche delle pause e è tardi ora vado a mangiare salve sembra che ho lavorato ma ho fatto un kaiser secondo che prendo il cavalletto perché non mi trovo ormai gli influencer professional lavorano con il cavalletto comunque sto così perché mi scoccio comunque niente sono le 5 e 5 ho lavorato lavorare per me vuol dire editare video ho editato un video intero quindi credo che lo pubblicherò oggi che è venerdì perché voglio provare a pubblicare due video a settimana sempre se ci riesco poi ho editato un altro video a metà cioè no manco metà pochi minuti 4 minuti però ancora mancano altri minuti video non uscirà tanto lungo perché io taglio tutto cioè le parti che mi scocciano a me figuratevi se ve le faccio rimanere a voi quindi oggi dovevo andare a chitarra solo che si fa direttamente alle 8 sì 8 perché dobbiamo provare con il coro non ho capito beh però vabbè alle 8 comunque chitarra di stasera domani c'è la verifica di telecomunicazione informatica non si fa più si fa lunedì adesso penso che vado a fare merenda e poi dovrei fare la copertina del video descrizione tutto 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 ma tanto questo lo pubblico stasera perché l'smr secondo me vanno più di sera molto più ciao grazie a tutti Grazie a tutti